Buongiorno, ci siamo già visti l'anno scorso, quest'anno parliamo di una cosa che si collega anche a quella dell'anno scorso, cioè c'entra sempre la natura, c'entra sempre essere buoni con la natura, quindi aiutarla, quindi cercare di non far soffrire la terra, questa è la terra, la terra che si guarda allo specchio e non è tanto contenta perché ci sono un sacco di problemi, tanti problemi, uno dei problemi che abbiamo, il signor R, l'abbiamo visto l'anno scorso, le tre R, quindi riduci, riusa e ricicla, quindi riduci la quantità di, adesso vediamo che cosa, riusa oppure ricicla, riduci la quantità di rifiuti, quindi c'è un'altra R, la R di rifiuti, i rifiuti, cosa sono i rifiuti? Che vuol dire rifiuti? Eh, si vedono, sono qua, allora qui vediamo, a parte la grande città di dove vi vedo il R, vediamo due posti che hanno un nome, questo posto qua come lo chiamiamo? Discarica! La discarica non è una cosa molto buona, perché? Perché nella discarica ci sono tanti rifiuti e come sono messi i rifiuti nella discarica? Sparsi, mescolati, e invece noi sappiamo che ogni rifiuto ha una sua personalità, ogni rifiuto ha delle sue possibilità e noi potremmo fare delle cose diverse, certo se stanno tutti nella discarica dobbiamo fare qualcosa, non è possibile che stiano tutti insieme. Questa è una discarica, questo qui è invece un altro posto, ce ne sono due ci materni che stanno dando tanti problemi, come si chiama quest'altro posto? Inceneritore. Cosa si fa nel inceneritore? Si brucia il rifiuto. E perché si brucia i rifiuti? Cosa si produce? La crisi erconica, si si produce anche la crisi erconica, è vero, però è il fumo, però non ce ne facciamo molto, perché si bruciano i rifiuti? Si chiamano termovalorizzatori, per scaldare si bruciano i rifiuti e si scalda che cosa? Ma questo è quello che vedete, però dentro c'è qualche cosa altro, si scalda, il termovalorizzatore significa che scalda l'acqua, si prende una corrente di acqua, ma si scalda e quindi si crea energia, che poi serve per il riscaldamento. Questo potrebbe essere una cosa buona, potrebbe anche essere una cosa buona se sapessimo esattamente che cosa stiamo bruciando, se sappiamo esattamente cosa stiamo bruciando, per esempio bruciamo l'erba, la paglia, allora produciamo un po' di energia e possiamo usarla per il riscaldamento. Però ci sono stati dei problemi perché spesso nei fumi, cosa c'è nei fumi? C'è l'aria carbonica, ma ci possono essere anche dei composti che sono pericolosi, dei composti del carbonico che sono pericolosi, bisogna essere sicuri che per esempio si sta bruciando qualcosa che contiene l'amianto, l'amianto è molto pericoloso, il minerale è molto pericoloso. Quindi ci sono tutte queste possibilità, però noi pensiamo che con i rifiuti si possa fare di più, con i rifiuti la sua personalità e quindi ogni rifiuti ci sono rifiuti diversi, per esempio c'è il vetro, sapete che adesso si fa la raccolta differenziata, però la parte dell'anno scorso, c'è il vetro, poi cosa c'è? La plastica, l'organico, l'alluminio, ecco, quindi già si comincia a differenziare già qualcosa. Ecco, però effettivamente si può fare di più con i rifiuti. In particolare io sono ingegnere dei materiali, quindi studio questi materiali, questi materiali di cui abbiamo parlato, anche la plastica, ci sono tanti tipi di plastiche, adesso ne ripariamo un po' meglio delle plastiche. E io lavoro però come designer, cioè insegno ai designer industriali, non insegno solo ingegneri, ma insegno ai designer industriali. Cosa fa il designer secondo voi? Che mestiere farà il designer? Cosa fa il designer? C'è qualcosa qui dentro che l'avrà fatto un designer? Quella sedia, magari si chiama qualcuno. Il banco, magari si chiama qualcuno. Quindi sono quelli che fanno il disegno e il progetto, per esempio, dei mobili, ma non soltanto dei mobili, degli oggetti, molti oggetti, i designer dei computer, per esempio, quelli che fanno il progetto dei computer. E i designer sono molto interessati a utilizzare i rifiuti per farci qualche cosa altro. Io insegno ad Ascoli Viceno, sapete Ascoli? In che regione è Ascoli? Non è lontana della terra, se lo vedete sulla cacchina non è lontana della terra. Adesso abbiamo i problemi col terremoto per cui non è facile arrivarci, non è tanto facile arrivarci, però se andate a Norcia, se andate a Norcia, poi c'era la strada che scendeva giù ad Ascoli. Ascoli, in che regione è Ascoli? Cosa c'è dietro le montagne? Che regione c'è? Le Marche. Quindi Ascoli è nelle Marche. Ascoli è nelle Marche. Dietro lì c'è le Marche, ci sono le Marche. Dopo Ascoli andate ancora un po' avanti e arrivate al mare dall'altra parte. Come si chiama il mare? L'Adriatico. L'Adriatico, arrivate sull'Adriatico. Benissimo. Ecco, allora, i rifiuti di incenerimento produce di inceneritore, produce tanti problemi. La CO2 l'abbiamo già nominata. CO2 è l'anidride carbonica, perché C è il carbonio e O2 sono due atomi di ossigeno ed è l'anidride carbonica. Allora, noi quando respiriamo mettiamo dentro ossigeno, non soltanto ossigeno. Nell'aria se ci fosse soltanto ossigeno ci luceremo la gola. Nell'aria però c'è anche qualcosa, la maggior parte dell'aria è fatta da azoto, che fa sì che noi possiamo respirarla senza bruciarci la gola. Quindi abbiamo azoto che c'è i due terzi e poi c'è l'ossigeno. E poi quando respiriamo tiriamo fuori anidride carbonica. Invece ci sono le piante. Le piante cosa fanno invece? Perché è importante avere le piante? Dice, io pianto la fotosintesi. Cosa vuol dire la fotosintesi? Cos'è? Cos'è? Sì, allora le piante escono anche dei decarboni e dopo mandano un po' di ossigeno. Ossigeno, prendo. Le decarboni mandano un po' di ossigeno, quindi depurano l'aria, aumentano la quantità di ossigeno che c'è. E' chiaro che sia noi, sia l'acqua di inceneritori, per esempio, produciamo molta l'idea carbonica. E ci sono una serie di problemi. Per esempio, c'è, siccome l'aria contiene molto azoto, c'è la possibilità che si crei gli ossigeno di azoto. Nel senso che quando, per esempio, le città sono inquinate, si crea una nebbia che non è una nebbia dovuta soltanto all'umidità. E' una nebbia dovuta all'umidità e alla presenza di fumo, alla presenza dei fumi. Per cui rimangono questi ossigeno di azoto e si chiama smog. Lo smog si chiama così, che è quello che c'è sopra le città. Se voi vedete le città, anche terni, anche Roma, le guardate dall'alto e vedete che spesso c'è questa cappa di smog. Smog viene da due parole inglesi, metti insieme due parole inglesi. Una parola che vuol dire fumo. Come si dice fumo in inglese? Smoke. E' un'altra parola che vuol dire nebbia. Come si insieme diventa lo smog. E quindi è una nebbia fatta di fumo. Non è la nebbia normale dell'umidità, è una nebbia fatta di fumo. Ci sono poi altri problemi. C'è il problema che le particelle noi le possiamo respirare. Ecco, vedo lì i multipli e i sottomultili. C'è chilometro, ettometro, decametro, decimetro, centimetro e millimetro. Sotto il millimetro, c'è ancora qualcosa sotto il millimetro. Sotto il millimetro, un millimetro è fatto da mille micron. Micrometri o micron. E le particelle che noi possiamo respirare sono molto più piccole di un millimetro. Ci sono delle particelle che sono su dieci micron. Sono praticamente più piccole di un nostro capello. Il capello è 50-70 micron. E allora il nostro naso, il nostro naso come funziona? Il naso, perché ci sono i peli nel naso secondo voi? Per darci fastidio, no? Hanno una funzione molto importante per i peli nel naso. Perché? E quindi il naso che cos'è in realtà? È come se fosse il colino per il tè. Il naso fa la stessa funzione del colino per il tè. Impedisce che le foglie finiscano, è un filtro, esatto, la parola giusta è questa. Il naso è un filtro. È un filtro. Impedisce che le foglioline finiscano nel tetto. E infine impedisce che il fumo finisca nel nostro naso, le particelle grandi. Certo ci sono le particelle che sono talmente piccole che sono più piccole di quelli del naso. Per esempio le particelle di dormita al bruciato, le particelle della combustione. E questo può essere pericoloso. del PM 2,5 sono più piccole di 2,5 micro. E passano, sono talmente piccole che passano nei peli, tra i peli del naso e ci creano dei problemi respiratori, di respirazione. C'è poi un'altra cosa che è molto, che succede. Per esempio questa statua, se voi vedete le statue in città c'è il fenomeno delle piogge acide. Cosa sono le piogge acide? Le piogge acide sono le piogge che rovinano la statua. La statua, perché? Allora, le statue, le statue sono fatte di il materiale più famoso con cui si fanno le statue, che è il marmo. Il marmo è carbonato di calcio. È carbonato di calcio. Come i cusci delle uova. I cusci delle uova sono carbonato di calcio. Non è marmo, ma sono molto esistenti. E carbonato di calcio. Soltanto che nei combustibili, quindi nella benzina, quindi nel gasolio eccetera, ci sono, non c'è soltanto il carbonio per quello che è di questa, ma c'è lo zolfo. C'è anche sempre un po' di zolfo nei combustibili. Lo zolfo fa un acido che è l'acido delle cipolle. Perché bruciano gli occhi quando sono bruciate le cipolle? Perché c'è un acido che viene dallo zolfo e quindi siccome viene allo zolfo si chiama acido solforico. L'acido solforico è quello che fa bruciare gli occhi. E l'acido solforico si forma nelle piogge acide. Quando ci sono piogge e c'è anche smog, e c'è anche inquinamento. L'acido solforico trasforma il carbonato di calcio e il marmo in solfato di calcio. che lo conoscete bene è il solfato di calcio. Non è più un marmo, ma lo usate per scrivere sulla lavagna. È il gesso. Il solfato di calcio è il gesso. È chiaro che con l'acqua, se ci passa l'acqua sopra, il marmo resiste. Al gesso no. Se diventa il gesso perché c'è stata la pioggia acida, l'acqua lo porta via. piano piano lo porta via. E quindi la Stato perde i pezzi perché diventa di gesso. Diventa non più totalmente di marmo, ma di gesso. Quindi i rifiuti sono un grande problema. Quindi cerchiamo di fare qualcosa con i rifiuti. Con i ragazzi, con i miei studenti di Ascoli, anche con altri studenti, abbiamo tentato di fare tante cose. Adesso vi farò vedere. Per esempio, c'è il carattere. Una cosa da capire. I designer sono interessati a capire il carattere, la personalità dei materiali. Sapere, per esempio, che questi sono tipi diversi di... Che cosa sono? Seda, lana di cammello, casco, lino, botone. Sono tutte fibre. Ci si possono fare delle fibre, ci si possono fare dei tessuti. Per esempio, il botone è molto diffuso. Per esempio, perché i jeans sono di botone. Il lino è antichissimo. Non so se voi siete mai stati al Torino. Al Torino c'è la Sacra Sindone. La Sacra Sindone è un tessuto che è di lino. Di lino, su cui c'è il porto di Gesù. E effettivamente, in Paccamietti, il lino è molto antico. Poi c'è la seta. La seta, da dove viene fuori la seta? Dai pacchi. Dai pacchi da seta. Quindi il pacco fa il bozzolo. Fa il bozzolo e poi, per svilupparsi, poi ci rimane dentro. Io, in ufficio, nascono i panetti di bozzoli. Adesso bisogna capire bene. Mi hanno dato un po' di bozzoli. Perché c'è un signore delle macchie che ha ricominciato a utilizzare la seta. A fare la seta. E allora hanno dato un po' di bozzoli. E si possono, per esempio, fidare. Per esempio, nei paesi dell'Africa, utilizzano, per esempio, una lana di cammello. Perché la lana, normalmente, la lana che usiamo è perché animale viene, no? Non è normale. Però, nei posti dove non ci sono i peperi, si utilizzano i cammelli. Ma ci sono anche delle fibre che sono un po' dure, strane. Però si può fare qualcosa. Si sta facendo molta ricerca sul fatto di avere tanti tipi di fibre diverse. Perché ogni posto c'è una fibra. Adesso vi parlerò ancora di un po' di altre cose. Per esempio, l'Ortica. L'Ortica, c'è una favola di Andersen, di Cicchi Selvagi. Quella è la principessa lista. La macchina di questa principessa lista della favola di Andersen. che la principessa Elisa, c'è stata questa maledizione, e questa maledizione, i suoi fratelli sono stati trasformati in cigni selvatici. In cigni selvatici e per far sparire il sottileggio, questo incantesimo, doveva fare degli avici di Ortica. Però l'Ortica, che problema ha l'Ortica? Per far prendere le prude. Prude, perché ha delle spine particolari, dei peri appuntiti, che servono all'Ortica per difendersi, per difendersi dalle altre piante. Però per noi è che è un problema. Però anche sull'Ortica si può lavorare. Si può cercare di fare, per esempio, dei gomitoli e così via. E quindi le possibilità con le piante sono tante. Anche l'Ortica può essere uno scarto. Per esempio, noi prendiamo l'Ortica nei campi e invece di bruciarla possiamo pensare, come la principessa Elisa, di farci dei tessuti. E certo, ci sono delle difficoltà. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Come va? Si è ripreso? Si, si. Ok, perfetto. Bene, allora, non soltanto l'Ortica ai peli per difendersi. Ad esempio la pesca. Questa è la pesca. Vedete? Sapete la pelle della pesca com'è? Si. Che si protegge. Si protegge dall'acqua, far volare via l'acqua, per esempio. Perché il frutto. Perché le piante sviluppano i frutti? Perché noi ce li mangiamo? No. A che serve il frutto, la pianta? Per proteggere? Eh? Il seme. Che la parte che a noi magari non interessa, quella che noi scarpiamo, ma la pianta sviluppa il frutto per proteggere il seme. E lo protegge, questo è per esempio il kiwi. Quella è la visca di il kiwi. Il kiwi. Sotto, questo qua, questo qua, questo si trova d'estate, ma questo vedete che scultura ha visto il microscopio. Quello è un pomodoro. Quello è un pomodoro. Questo è un pomodoro. È un pomodoro in realtà. che ha tutte queste cellule all'interno. Non sono delle strutture piene, ma sono delle cellule. Le strutture cellulari sono buone perché? Perché fanno le strutture cellulari le piante all'interno? Perché le cellule permettono di trattenere tanta acqua, tanto condimento. E allora ci sono queste strutture cellulari particolari. Per esempio, anche a sinistra invece abbiamo un frutto che è un tipico frutto estivo. È un tipico frutto estivo che è il... Il secondo voi che è tutto è? Che all'interno... Si apre... Si apre... Si apre... Il cacciolo... E all'interno... Questo... Il cacciolo... Il cacciolo non è così. Il cacciolo precosso non ce l'ha. Il cacciolo precosso non ce l'ha. È un figo in realtà perché fuori è verde del precosso. E ha questa struttura particolare all'interno. O per esempio la cinestra, la cinestra, la cinestra è un altro tipo di pianta come l'ortica. E ha avuto una sua storia, ha avuto una sua storia anche la cinestra. La cinestra è stata una pianta che si poteva tessere, che si poteva tessere. C'è stato il periodo in cui si facevano cose di questo genere con la cinestra. Prima della guerra si facevano... Questa è l'immagine presa a Terli. A Terli c'era lo Jutificio Centumini. Ancora adesso c'è, vicino all'accia di 10, c'è una pineta che è la pineta Centumini. C'è ancora la pineta dei padroni dell'edificio Centumini. Lo Jutificio, dal nome, filavano una firma che era molto importante, una firma di origine indiana, perché ce l'avevano e ce la vediamo anche noi, che è la Juta. La Juta si facevano i sacchi, si facevano i particolari. E la Ginestra, anche la Ginestra, ha tutta la sua storia. La Ginestra veniva usata, si chiama Spartos, che viene da Spartos, cioè una pianta per produrre funi, perché la Ginestra resiste all'acqua del mare. Le funi, perché le funi devono resistere all'acqua del mare, perché queste funi dovevano resistere, perché queste corde dovevano resistere. Cosa le usavano queste corde? Un uso molto importante delle corde. Per calare l'ancora? Per calare l'ancora, per calare l'ancora e per ancorare le barche, le barche al porto. Quindi è un uso molto importante. Se voi pensate a città come Venezia, uno non pensa mai a funi, ma la Venezia faceva un tantissimo consumo di funi in Cinesca, in canapa, adesso parleremo della canapa, perché effettivamente è molto importante ancorare le navi, poter ancorare le navi. Appunto, stavo dicendo della canapa. La canapa, vedete, anche i tessuti hanno tante forme, hanno tante forme, per esempio questa è una tela, una tela piana, questo è un tessuto misto che è metallo, canapa e metallino, poi si può fare metà canapa e metà cotone, il denim, il denim è che è il tessuto dei jeans, che si può fare solo il cotone, o poi si può fare canapa e cotone. Inizialmente era di canapa, poi è diventato un cotone. Il denim è molto resistente, e a questa era il tessuto, si chiama denim perché veniva da Nimes, Nimes è una città della Francia, è una città della Francia, e in realtà i jeans, sapete i primi che portavano i jeans? I jeans viene da Genova, è un modo americano, diciamo, di pronunciare, perché Genova si dice Genova, in inglese, e il jeans viene il tessuto di Genova, anche il denim, il denim, il tessuto dei jeans, che viene da Nimes. Sia a Nimes che a Genova, c'è il mare, non sono nemmeno tanto lontani, e quindi questo ci fa capire che in realtà, a chi è che il mio papà per i primi jeans, i vancesi, ma anche gli italiani, soltanto che facevano un mestiere particolare, per cui ci voleva tanta, che potevano avere i pantaloni tanto resistenti, un mestiere molto, molto faticoso. gli scaricatori di porto, facevano i marinaio, gli scaricatori di porto, le scaricavano le navi, un mestiere molto faticoso, e poi ci voleva un tessuto molto resistente. La canapa, ma si usa addirittura nell'aeronautica, si usa anche la canapa, per esempio, si ricomincia a utilizzare la canapa, dopo aver utilizzato per tanto tempo, le dipendere, le cose di verità, e poi in certi usi si utilizza, come certi misagini. Noi siamo in pannellina, e effettivamente siamo al centro della filiera della canapa. La canapa produce non soltanto le funi, ma anche prodotti diversi. Per esempio si possono fare i pantaloni di canapa e calce, i pannelli, i pannelli isolanti per le paventi, o poi si possono fare anche con le foglie di canapa, si possono fare, per esempio, questi sono dei fissili alla canapa, e sono fatti con le cime di canapa, le cime della pianta e della canapa, come le cime di rama. Quindi hanno anche un uso alimentare. È importante, nelle cose che stiamo cercando di fare, spesso è importante avere anche un uso alimentare, perché l'uso alimentare ce ne rende più simpatico, più gradevole. Quando vediamo che con qualcosa facciamo anche qualcosa da mangiare, può essere interessante. Quindi le cime di canapa. Quello lì, per esempio, il tavolo invece fatto con, il canapolo, con il legno del canapolo, le pacchette, che sono le pacchette della canapa, il canapolo, le pacchette che stanno fuori dalla pianta, e effettivamente ci si può fare un legno. Ora, è importante, un posto dove andare, non siete lontani, questo è il museo della canapa a Sant'Anatoria. Sant'Anatoria non è lontano da qua. Se voi andate qua, dove andiamo avanti c'è Ferentillo, dopo Ferentillo poi proseguite ancora un po', entrate in provincia di Perugia, e dopo Scheggino c'è Sant'Anatoria. Sant'Anatoria, che ha avuto dei danni per il terremoto, anche Sant'Anatoria, c'è il museo della canapa, e effettivamente hanno ricominciato la procurazione della canapa, è molto interessante perché fanno anche i laboratori per la tessitura della canapa, e gli spiegano effettivamente tutto quello che si può fare in questo tipo di canapa. E' chiaro che anche qui c'è un problema di scarti, nel senso che anche la canapa produce dei rifiuti in cui ci si può fare qualche cosa, è qualcosa che sta tornando la canapa. Quindi i rifiuti sono di tanti tipi. Adesso passiamo a quello, partendo proprio dalla canapa, vedete che qui ci sono dei nomi, che sono gli studenti che hanno fatto questi lavori, a cui io sono grato, perché effettivamente hanno fatto dei bei lavori. Quello che stiamo cercando di fare sono, come dicevamo stamattina, le bioplastiche. Allora, è un modo per utilizzare i rifiuti. Allora, la plastica viene... Da dove viene la plastica? Dal petrolio. Dal petrolio, e questo è quello che sappiamo tutti. In realtà questo è vero, il parco, cioè è vero per un tipo di plastica, per quella che è utilizzata. La plastica che utilizziamo, per esempio quella della bottiglietta, il PET, viene dal petrolio. Però c'è la possibilità di fare altri tipi di plastica che non vengono dal petrolio, che adesso vedremo come. In particolare, ci sono delle plastiche che sono bio e che possono venire, per esempio quella dei sacchetti di plastica, di adesso, il mater-fi, viene dal... dall'amido. Dall'amido che in realtà è un derivato dello zucchero. L'amido, che cos'è l'amido? Quando lo vedete l'amido? Vediamo in cucina, quando vediamo l'amido? L'amido serve per esempio per quando si stira, serve per rendere più rigidi i tessuti, eccetera. Però quando vaccinate l'amido, una... con la pasta è difficile che lo vedete, ce ne vedete forse un pochino quando cuocete la pasta, perché è una polverina, che si chiama polverina. Sì. Ma ne vedete tanto quando fate il... quando c'è la polverina bianca che trova al bordo della ventola. Ma il succo non pensa la polverina bianca. Il riso. Quando cuocete il riso, si trova con la polverina bianca e quello è amido. E dall'amido si fanno delle plastiche, anche dall'amido. Dall'amido o dalla fecola di patate, per esempio, che è sempre un derivato dello zucchero che avviene dalle patate, simile all'amido, si possono fare delle bioplastiche. Ed è una possibilità. Quindi c'è una possibilità di plastiche, non solo dal petrolio, ma dai derivati del zucchero, che sono l'amido, oppure quell'altro derivato dello zucchero per cui si fa la carta. La carta. Sapete quando... quando è stata inventata la carta? L'altro giorno stavo parlando con una persona che ci è venuta a trovare ad Ascoli, da un altro posto nelle Marche dove è nata la carta. La carta è nata nelle Marche. Se voi vedete c'è un posto nelle Marche dove... Qual è il posto? A Biano. A Biano. a Biano hanno inventato la carta. Anche a Biano, capito, che la cellulosa che si prendeva dalle piante, che si poteva prendere dalle piante dal legno e così via, si poteva fare la carta, si poteva stampare, si poteva stampare, si poteva mettere in uno stampo e effettivamente fare una struttura di fibra e fare la carta. La carta chiaramente ha un peso diverso. Se voi leggete sulla... sul pacco di carta della stampante c'è una cifra, c'è un numero che vi dice quanto pesa la carta. C'è carta più pesante, carta meno pesante e così via. Lì c'è scritto normalmente la carta della stampante è 80 grammi su un metro quadro che vuol dire che un metro quadro di carta pesa 80 grammi di quella carta lì. Poi c'è la carta molto spessa, ad esempio il cartone può pesare 200-300 grammi. una carta anche più sottile, c'è anche una carta più sottile. Ad esempio, secondo voi il giornale, la carta di giornale, se la carta della stampante pesa 80 grammi su un metro quadro, la carta del giornale quanto peserà? 5. 5. 5 è poco, 5 è poco, 5 è poco, 30, 30, 25, 30. Anche qua, già 40, 40 è già abbastanza spessa, 5 è poco, 5 è zottilissima, zottilissima. E' proprio la carta di verità, è poco, è poco, ecco, quindi pesa di meno. Questa ragazza ha fatto la bioplastica con la canapa, prendendo un po' di canapa proprio a Sant'Anatoria con gli scarpi della canapa nella fegola di palata hai cominciato a fare dei buchiai, si hai cominciato a fare dei buchiai, eccetera. E la chiamiamo, gli americani la chiamano la bioplastica fai da te, o anzi, il biopomposito perché c'è una plastica e dentro c'è una fibra. Fai da te, questa D-I-Y sono tre parole in inglese. Fai da te, in inglese, come si dice fai da te? Fai come si dice? Fai. fare, 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 fare. Io faccio, come dico io faccio in inglese? Come si dice in inglese? Hai? Hai due. Io posso. Hai due. Du. Quindi la prima parola è du. E poi fallo, 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 come si dice? Fallo du. It. Du it. Quindi la seconda parola è it. Quindi du it. Fai da te, da te. quando dico da te, ma proprio tu, ma proprio tu, you, ma quando dite proprio tu, dico myself, yourself, cioè du it yourself, fallo da te, fallo proprio du. E loro lo chiamano, ne fai da te, lo chiamano du it, it yourself, quindi di I'm fine. e noi gli facciamo vedere che ci sono gli scarpi, perché noi ci vergogniamo del fatto che sono scarpi. Questa per esempio è con la canna, ma che ci sia fatto questa plastica con la canna, ma è chiaro che abbiamo capito una cosa, che ci sono plastiche dal petrolio, ma ci sono plastiche, anche un'altra famiglia di plastiche, dalla cellulosa, dall'amido. Ci sono anche le colle, le colle, lo dicevamo l'anno scorso, che ci sono le colle che effettivamente dà l'amido. Per esempio c'è la coccoina, noi la usavamo tanto la bambina, la coccoina, la coccoina, la fecola di patate, la pasta di manco, ed è una colla. Quindi ci sono delle plastiche che si possono fare con la cellulosa. La cellulosa, la cellulosa ha tutta una sua storia, l'acetato di cellulosa, la celluloide, celluloide 1912, la celluloide a cosa serviva, a cosa, quando dite il mondo della celluloide, la celluloide è legata a che cosa? Cosa è questa? Non si vede, è nera, e nera ha una sua storia importante. E' una striscia legata? E' una striscia, è una striscia sicuramente, è una striscia che si appoggia, ma è di celluloide. Il mondo della celluloide è il mondo del cinema, e quindi questa che cos'è? E' una striscia, è il film? Ma come lo vedete? E' il film come lo vedete? Come la? Vai, come la chiamava? Il nastro come si chiamava? La pe? La pellicola. La pellicola? E' una pellicola? Poi ci facevano anche le carte dal gioco, poi ci hanno iniziato a fare i metri, e l'acetato di cellulosa consuma tutta una sua storia, le montatore per gli occhiali, l'acetato di cellulosa ha avuto tutta una sua storia, anche molto importante, diciamo, quindi è un tipo di... Ci facevano anche le costruzioni d'ego, e adesso si fa loro un'altra plastica, l'ABS, l'ABS, ma le costruzioni d'ego si facevano anche l'acetato di cellulosa. Lo scotch, lo scotch è l'acetato di cellulosa. E quindi ci sono anche delle plastiche che svengono dalla cellulosa, quindi dal legno, quindi dagli scarti del legno, dagli scarti di altre piante. Poi c'è la terza famiglia di plastiche, che è la plastica del latte, che ha avuto su una sua storia. La plastica del latte si chiama, dalla caseina, dagli scarti del latte, quando c'è troppo latte, che non sapete come utilizzarlo, si è creata la galalite. La galalite, allora, vediamo un po' di capire. Allora, la galassia, come si chiama la galassia? Galatea. Galatea. Quindi galassia e galatea. Quindi ci fa capire che gala, gala che cos'è? Infatti c'è anche un tipo di cioccolato che si chiama gala. perché si chiama gala. Gala, quindi cos'è? In greco cos'è gala? È la galassia, la galassia è la galatea, quindi ci capiamo che gala deve essere con forza in latte. Quindi in latte, lite, o invece la lite, litos, che cos'è il lite? Lite, il litos è la pietra, quindi la pietra di latte, cioè è una plastica di latte pesante, non pesante, ma resistente come la piega, meno pesante della piega, molto meno, ma resistente come la piega. Questi sono posanti. Questi sono bottoni in galalite, una collana, ha avuto tutta una sua storia. Questo è un quaderno di un bambino degli anni 30, perché anche in Italia abbiamo cercato di fare le fibre con latte, con gli scarti di latte si facevano le fibre, che hanno avuto la sua storia, hanno avuto una loro storia che si facevano i vestiti, con gli anital, cioè la lana che non veniva, la lana del latte, che non veniva dal peco che vanno in scarti di latte. Quindi è una terza categoria di plastiche. Abbiamo le plastiche che vengono dal petrolio e quelle che conosciamo tutti. Abbiamo quelle che vengono dalla cellulosa, dall'anite, quindi dai grassi di zucchero e quelle che vengono dalle scarti di latte. E anche noi abbiamo cercato di fare qualcosa. Allora abbiamo, ci siamo messi a fare un po' di bioplastiche, per esempio questa è dalla zucca, vengono le patate, caffè e aceto. O perché è una cosa che funziona tantissimo, adesso a Derni partiamo con un grande progetto, una cosa che funziona tantissimo per fare le plastiche sono i fondi di caffè. I fondi di caffè funzionano tantissimo perché contengono delle sostanze che si chiamano fenoli che sono molto buone per fare le plastiche. E i fondi di caffè sono uno scarto, ne trovate quanti volete. Questa è colorata col succo di vittino, questa è la cuccia di carota, poi ne abbiamo fatte ancora qualcosa. L'aceto c'è quasi sempre, l'aceto funziona bene. Questa è con gli scarti di arachidi, gli scarti di gusci delle noccioline americane, sono tutti i primi esperimenti che abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto anche di meglio. Questa per esempio è la sansa. Alla sansa, da dove viene la sansa? Avete mai sentito questo nome, sansa? La sansa viene e lo scarto della produzione invece c'è cosa. Praticamente c'era un olio di sansa. La sansa è quello che rimane quando spremete l'olio dalle olive. e quindi rimane questo e si possono fare degli oggetti. Si possono fare degli oggetti, potete mettere una resina e fare degli oggetti. Per esempio, perché è un materiale molto legioso, molto duro e effettivamente si può utilizzare, invece di andarlo a cuciare, si può utilizzare per fare degli oggetti. E poi c'è il problema del colore. Voi sapete, quando vedete gli ingredienti sui prodotti che mangiate, i prodotti alimentari, vedete che hanno sempre un codice, se ci fate caso sempre un codice che inizia per E. E significa riautorizzato dall'Europa, nel senso che si può utilizzare. E ci sono dei coloranti naturali, per esempio questo colore qua, l'antocianina, l'antocianina, l'antos è il fiore di un reto, l'antocianina è il colorante che viene dalle arance rosse, dalle arance rosse viene l'antocianina. Questo è un altro colore che viene da certi insetti e si utilizza per esempio per certi liquori, per farli rossi certi liquori. Questo si utilizza per correggere il colore dei formati, per esempio l'anto, è un altro colorante naturale. Questa è la clorofilla, la clorofilla rende le piante verdi, quindi sono dei colori naturali. Questo è un esempio di un porta frutta che abbiamo fatto in bioplastica, questo è stato fatto a Nato, in bioplastica ottenuto sempre da scarti di amido, quindi scarti di buce praticamente, buce di patate e così via. E questa abbiamo fatto anche delle bioplastiche con delle foglioline di qualche altra pianta. Perché? Perché è chiaro che quando non è che va tutto bene, quando fate le bioplastiche, la plastica che viene dal bel olio ha i suoi problemi, però non ha un problema che invece hanno gli alimentari, i prodotti alimentari, i prodotti naturali. Cioè se poi lasciate la frutta per un certo tempo per esempio fuori dallo spinto, cosa succede? Si secca e poi si ammuffisce, si ammuffisce e non si conserva bene. Se poi fate caso, nella cucina si utilizzano molte erbe, per esempio che erba si utilizza in cucina? La salvia. Allora, la salvia, il timo, il rosmarino, servono, queste erbe servono per insaporire e anche per conservare. E anche con le bioplastiche questo funziona se ci mettete la salvia, il timo, il rosmarino effettivamente durano di più, non si ammuffiscono. Ci sono delle muffe che vengono sfruttate anche nell'alimentazione, ci sono i formaggi con la muffa, ci sono i formaggi con bozzola che è blu, poi ci sono i formaggi c'è anche il formaggio francese qui che ha una muffa che però è bianca. E' sempre muffa è però qua. E le erbe ci consentono di non fare ammuffire di allungare la vita a queste piante. Ci siamo messi a studiare che tipi di colori potevamo ottenere e abbiamo visto che per esempio il giallo diversi tipi di giallo ce lo danno in diversi colori lo zanferrano lo zanferrano lo conosciamo bene il rosso ce lo danno le barbabietole rosse poi c'è un violaceo che ci viene dato dalle fragole alla marena dalla barbara che c'è tutti i tipi diversi di colori il caffè chiaramente ci dà un marrone come il tè che ci dà un marrone un po' diverso quindi c'è uno studio del colore naturale la cosa interessante è che le bioplastiche le potete colorare con colori naturali e studiare i colori che hanno la pubblicità che sono tanti tante sfumature diverse di colori questo è un porta cioccolatino dagli scarti di cacao dagli scarti di cacao questo ragazzo di Milano ha fatto un porta cioccolatino ha fatto il porta cioccolatino dagli scarti del cacao messo in una plastica sempre ottenuta dall'amido e effettivamente ha fatto questo porta cioccolatino perché la cosa interessante è che alle volte noi utilizziamo gli scarti per fare qualcosa che è collegato questi sono scarti del cacao perché il cacao voi lo conoscete come cioccolato ma chiaramente è fatto da fave quindi sono dei specie di piccoli frutti che hanno una buccia e la buccia si butta dalla buccia si può fare qualche cosa altro si può mettere in una plastica e si può effettivamente utilizzare e poi per esempio sempre ha lo scopo di restare all'interno dello stesso sistema questa è una tovaglietta di carta fatta dalle minacce dell'uva dalle minacce da quello che scarta quando fa il pino questa è una ragazza che sta nel Molise sta nel Molise dalle parti di Campopasso e lei faceva effettivamente la produzione e quindi aveva tutte le bucce dell'uva dice cosa facciamo facciamo le tovagliette dalle minacce facciamo i pastelli dalle bucce dell'uva oppure facciamo l'imballaggio il packaging l'imballaggio perché una cosa importante è che la maggior parte della plastica viene fuori in realtà da quello che noi chiamiamo il packaging gli imballaggi se poi vedete quanti imballaggi si buttano qualche scatole si buttano quanti contenitori si buttano e non si riescono a creare città quindi può essere interessante fare degli impallaggi con gli scarti come in questo caso dagli scarti della produzione del pino quindi le bucce dell'uva per esempio questa è stata una cosa proprio degli ultimi giorni questa bioplastica questa ragazza ha fatto e lei c'è lei dentro questo vestito lei in persona ha fatto dei bottoni con le bucce i busci delle noccioline americane le arachidi e ha fatto questi bottoni essere anche attaccati con vestito effettivamente bottoni di diversa forma quindi lei l'ha chiamata pin mat mat come materiale pin perché l'ha chiamata pin perché l'arachide come si chiama la nocciolina americana come si chiama in inglese si chiama come noce bisello bisello come si chiama si chiama pea e la noce si chiama nut mettete tutto insieme peanut viene pea nut scritto e diventa arachide e in effetti questi sono gli scatti di arachide che ha fatto la bioplastica con le polinusci delle arachide questo invece è il paraset dalle bucce di patate ha fatto un set quest'altra ragazza ha fatto un set di dalle bucce di patate a bioplastica tutti gli oggettini che servono per fare un aperitivo praticamente un aperitivo quindi per mettere sulla tavola tutte le bucce di patate le bucce di patate sono una quantità enorme voi conoscete le patatine americane però effettivamente le prima che ci siano le patatine ovviamente c'è la patata si parte sempre dalla patata e la patata ha una grande quantità di bucce quindi una grande quantità di scatti ed è venuto fuori in patate a set cioè in set perapertini fatto dalle bucce di patate questo invece è il mais questo è il mais i mais sapete bene che è fatto dalle pannocchie e lì sono tanti oggetti fatti dal dal mais dalle pannocchie e quindi dagli scatti e quindi dalla buccia che ogni chicco di mais ha una sua muncia che si chiama tutto il nome esatto è tutto e questa buccia si possono fare effettivamente si può sviluppare una biotastica e fare tanti tipi di oggetti particolarmente porti oggetti ha anche tentato di fare qualche maschera una delle cose che ci ha dato molta soddisfazione negli ultimi tempi è che abbiamo fatto lo sapete che adesso c'è stato il carnevale ad Ascoli abbiamo fatto anche delle maschere con i ragazzi dell'istituto tecnico delle maschere di carta testa di carta testa quindi dalla carta dagli scarti di carta agli scarti di giornale abbiamo fatto delle maschere le maschere può essere un utilizzo interessante perché adesso vedete tutti questi utilizzi questi usi che vengono fatti la cosa interessante è che non vogliamo fare degli oggetti usa e getta cos'è un oggetto usa e getta? una volta e basta l'oggetto usa e getta vi affezionate all'oggetto usa e getta? no no e questo è un grosso problema non vi affezionate e quindi lo buttate se un oggetto siete affezionati non lo buttate e quindi la vita dell'oggetto si allunga questo gli inglesi e gli americani lo chiamano in un modo questo affezionarsi lo chiamano in un modo sapete lo 007 come si chiama lo 007? James Bond James Bond esattamente Bond Bond il Bond in realtà non James Bond il Bond è il legame Bond significa creare un legame quindi si dice che bisogna creare un legame se voi avete un giornaletto che vi piace non lo puntate via perché si è creato un legame se avete una bambola se avete una macchina se avete qualche cosa altro qualche oggetto che vi piaccia magari anche il posto telefonino magari avete un telefonino che dice si è creato un legame vi piace lo voglio tenere è importante per il design è importante creare questo legame questo Bond perché alla fine dimmi io avete detto tutti da noi con le cose con il sette io invece lo tengo qualcosa come il bicchiere non è che lo puoi utilizzare io lo uso più forte a una settimana due uso molto tempo bene di piettura infatti è importante questo perché perché l'avevamo detto l'anno scorso a proposito anche della bioimedica di PICLAER che effettivamente una cosa importante è ridurre la quantità di rifiuti fare meno rifiuti se voi allungate la vita agli oggetti fate meno rifiuti quindi cerchiamo di fare degli oggetti a cui uno si possa affezionare il design dà questo valore agli oggetti il design fa in modo che uno si possa affezionare agli oggetti pensate che per esempio una delle sedie più diffuse quella sedia una sedia con una struttura di palla che sicuramente avete visto nella maggior parte per esempio dei ristoranti del tag eccetera è una sedia che è stata fatta da un signore è stata progettata da un signore più di 150 anni fa la sedia Tonè ne ha progettate tante in particolare Tonè numero 14 è una sedia che è durata per tanto tempo si è creato un legame quindi il design crea un legame con gli oggetti di far durare una cosa che abbiamo fatto e che è stato un lavoro abbastanza difficile diciamo con i cusci delle volbole è stato complicato perché i cusci delle volbole sanno molto di mare e allora per i tagli non hanno un odore molto buono però mettendoli insieme con altre bioplastiche con in questo caso con il suo tecnico di Fermo Fermo a Prina Socasco c'è qui sulla cartina Fermo è un'altra città che non è lontano dal mare e abbiamo fatto questa collaborazione abbiamo creato effettivamente questa bioplastica con gusci di volbole abbiamo fatto oggettivi per esempio questo è un po' autamity e diversi oggettivi con colore naturali perché anche il colore dare dei colore diversi contribuisce al legame aumentato il legame con l'oggetto quindi è molto importante tutto questo e effettivamente colorare anche i colori adatti per l'alimento questi sono i cusci di vombore nella bioplastica questa è la bioplastica senza cusci di vombore per vedere l'effetto che faceva e dopo di che abbiamo fatto una bioplastica a base di amido e ci abbiamo messo i cusci delle dentro i cusci delle vombore e in effetti neutralizzando anche l'ocore perché c'è il problema per esempio che molte bioplastiche hanno dentro l'aceto però si può neutralizzare con altre erbe ci si mette l'erbe come la salta il timo il cosparino oppure si può coerare con il limone invece che con l'aceto perché un po' di acido serve un po' di acido serve come per l'aceto normalmente si creano quindi questi piccoli oggetti si possono fare anche oggetti più grandi stiamo tentando di fare anche oggetti più grandi vi faccio vedere un po' qualcosa altro per esempio queste sono le plastiche di latte plastiche a base di latte abbiamo fatto una galalite anche qui la plastica a base di latte ha un altro set per a meno un altro set per aperitivi per esempio la plastica a base di latte ma piano piano stiamo cercando di fare altre cose anche più grandi e mi sono tenuto le cose più importanti verso la fine perché piano piano il design vedete qui per esempio un piccolo tavolino che da mettere sul tavolo porta noccioline e così via fatte in questa plastica a base di latte che quindi è una galalite fondamentalmente è stato un lavoro che è durato qualche mese e effettivamente consente appunto qui c'è l'abricchio dell'abricchio del latte non a caso che sono tutte plastiche a base di latte quindi come vi dicevo le tre categorie di plastiche quelle a base del petrolio che continueranno a esistere ma esistono anche gli altri due tutti a base di cellulosa quindi di latte e a base di latte c'è poi questo ragazzo questo ragazzo il papà fa un lavoro molto bello e lavora col cuoio secondo me perché lavora il calzolaio il calzolaio ha tanti scarti di cuoio e allora lui ha provato lui ha provato a fare dei bottoni come con la galalite facciamo i bottoni c'era un po' l'ufficio di questi bottoni ha messo la moneta perché ha messo la moneta qua perché ci si mette la moneta secondo voi per far capire quanto sono grandi se voi volete fare una foto per far capire quanto sono grandi i progetti o ci mettete il grighello però è più complicato o ci mettete per esempio una moneta tanto la moneta sono tutti quanti grandi e allora per far vedere questi bottoni lui si è fatto lo stampo e effettivamente ha forato questi bottoni e funzionano molto bene bottoni di forma diversa è chiaro che si capisce che non sono bottoni di una plastica a base di petrolio ma sono bottoni di un altro tipo di bioplastica che in effetti è a base di ambito sempre ma con il cuoio dentro e ha fatto anche questo oggetto qui e riuscito a cucirlo ha fatto questo oggetto questo oggetto qui esatto questo è un corto occhiale questa è una foto e a peggio occhiale un corto occhiale e ha riuscito a cucirlo l'ha cucito da sopra e ha fatto questo corto occhiale con questi scarti di cuoio gli scarti di cuoio sono una quantità enorme in realtà c'è una quantità enorme di scarti di cuoio e quando si si lavora il cuoio è più difficile bene siamo arrivati quasi alla fine poi magari ci sarà tempo per qualche domanda ma una cosa che mi ha dato tantissima soddisfazione è questa che l'ha fatta una ragazza che è venuta a lavorare da noi è venuta per un periodo da noi ma lei come vedete dal nome è di origine colombiana lei è colombiana la colombiana è un paese in che continente sta la loro sudamerica e ha fatto questa bioplastica a base di carote con le cucciate di carote e ha fatto questa lampada dietro c'è la pila si accende con questo bottone e ci ha messo tutti questi dischetti è una lampada per bambini perché in realtà non è pericolosa e si possono sostituire tutti questi questi pezzi se ne possono fare altri il vantaggio delle bioplastiche che fa il dateno è che ve le potete rifare da soli nel senso che se sapete la ricetta che spesso è una ricetta abbastanza semplice se un pezzo si rompe lo potete fare e la bioplastica fai da te perché adesso stiamo entrando nel mondo dell'autoproduzione sapete che c'è la produzione industriale per esempio a te ci sono acciaierie che fanno acciaio eppure c'è la polimer che si fanno le plastiche però c'è anche una produzione più piccola che possiamo fare per noi per esempio adesso c'è è venuta fuori da un po' di anni la stampante 3D la stampante 3D ha un filo voi sapete tutti cos'è la stampante la stampante serve a stampare fogli la stampante 3D serve a stampare oggetti nel senso che c'è un filo che si può fare rammollire che può fare degli oggetti che si possono stampare degli oggetti di grande 3D nel senso che sono oggetti tridimensionali non è semplicemente una stampa su carta la stampante 3D viene normalmente alimentata con una bioplastica che si chiama l'acido polidattico PLA però si possono fare delle bioplastiche per farsi ognuno il proprio filo della stampante 3D e quindi i combusti degli oggetti quindi in futuro sarà che molti di noi oltre di voi riusciranno a farsi l'autoproduzione degli oggetti come in questo caso questa per esempio è la lampada quando è accesa la luce in realtà è un legno e vedete che effettivamente vedete l'effetto che fanno questa bioplastica fase di sluce e così via ho finito se avete delle domande sono contento di rispondere dimmi sull'ultimo sull'ultimo non ho capito una cosa su questo quando è accetto qui è acceso la luce è una figura questa è una vista non è che si è accesa su una ma c'è su tutte quante perché ha fatto un sistema tale che si medie la luce la luce del legno attraverso tutte quante perché i vetri sono molto piccoli quindi effettivamente da questo effetto è interessante l'acqua in carota perché dava questo effetto non è trasparente ma è traslucente è semi trasparente e quindi effettivamente riesce a dare questo effetto lei ha fatto la ricetta come al solito c'è l'aceto però come spesso succede però in realtà non dà un grosso odore perché è neutralizzato dal ticerolo e dal labido di masi quindi lei l'ha chiamata onix perché dava un effetto un po' pomeloice e questi sono dei pezzettini invece degli scarti di meglio effettivamente quindi potete sbizzarrire la vostra fantasia di effettivamente gli studenti hanno testato tantissime cose diverse e ancora ne stanno venendo fuori tante adesso deve venire fuori tra qualche giorno stanno facendo un orologio bioplastica un orologio bioplastica e questo è un progetto molto interessante perché il primo non ne ho ancora messo si l'hanno vedi tutti sono grandi sono grandi però insomma a volte si mettono in gruppo fanno un lavoro di gruppo come questo dell'orologio sono i tre si quindi provare invece di buttare le cose per la patissima lo ci fa vegano un po' non vegano vinti eh per esempio bisogna avere tante anche questo è sano la mia madre di buttiglie ci fa ciondoli e invece ci fa le cose vedi si qual'è il procedimento per farlo? il procedimento per farlo è che devi fare una ricetta devi trovare una ricetta che funzioni che sia abbastanza resistente per quello che vuoi fare tu normalmente non si vuole ci fare tutto bisogna fare se la ricerca non funziona normalmente non funziona lì se non funziona è ricerca quindi all'inizio non va bene è come quando è come quando per esempio sapete no? quando si va a Natale si fa il pan pepato ognuno ha la ricetta del pan pepato è chiaro che la ricetta del pan pepato non è che è venuta fuori il primo giorno c'è stato un lavoro di tanti anni magari in generazione magari mia nonna lo faceva così e la stessa cosa per le bioplastiche non è che la mia volta mi viene bene la mia volta trovate che qualcosa non va poi magari il colore non vi piace modificate il colore magari non è abbastanza resistente cambiate le quantità cambiate la temperatura perché dovete cuocerlo in qualche modo lo dovete mettere sul fornello cambiate i tempi per cui lo fate cuocere cambiate il modo di mescolarlo e piano piano viene fuori qualcosa di cui non è abbastanza contento i ragazzi che hanno tirato fuori questo orologio nella scrivania in realtà ci stanno lavorando da tre mesi tre mesi stanno rexpezionando le loro ricette adesso è venuto fare qualcosa che è molto interessante magari lo farò vedere la prossima volta bene quindi questo più o meno è quello che volevo dire altre domande la foglia di sabbia non ha un codice perché non ha un codice secondo te è vero è una domanda molto intelligente questa i prodotti alimentari hanno un codice con la rete che vuol dire che si possono mangiare la sabbia di sabbia il codice non ce l'ha perché è evidente che si può che è un prodotto che si può non è un additivo la sabbia non è un additivo cioè non è che la pasta ha un codice la pasta non ha un codice che si sa che è buona da mangiare poi ci sono gli additivi che hanno questi codici con la e alcuni poi con il tempo sono stati cancellati nel senso che alcuni erano prima considerati vuoli da mangiare altri vuoli e poi sono stati avevano dei contenuti che sono stati eliminati se voi andate a vedere una cosa molto interessante c'è questi codici lecce anche gli ingredienti dei prodotti che comprate per esempio perché poi c'è sempre la lista degli ingredienti e sono dati in ordine di quantità se per esempio avete un prodotto e la prima parola che c'è scritta è latte significa che la maggiore quantità è di latte poi c'è qualche cosa e poi ci sono gli additivi che sono con la e appunto le foglie di sabbia noi le abbiamo aggiunte per non far ammuffire le biocastiche perché può succedere che ammuffiscano o che divertino troppo inci e così via salvia timo cosmarino ci sono tante possibilità un'altra possibilità per non far ammuffire ed è una cosa che prima o poi faremo ma non è semplice è quello che fanno i cinesi con il colgelato sapete all'estorante cinese c'è il gelato come una finta fanno la frutta caramellata e quello serve a non far ammuffire prima o poi farò la plastica caramellata prima o poi ci arriveremo sono convinto che prima o poi ci arriveremo è sempre un ambientismo di zucchero eccetera che serve da non farlo non far ammuffire quindi la mia vita è un problema che esiste però la cosa importante è fare degli oggetti simpatici con i quali si possa creare un legame si possa creare un legame quindi adesso sapete che c'è risposta che è già come un legame e quindi si crea un legame si crea un legame affettivo quindi si crea un non lo volete più buttare volete allungare la vita e questo è un discorso molto molto importante diciamo allungare la vita è chiaro che meglio conosciamo i rifiuti non dobbiamo regolgarci più li conosciamo meglio nel senso che per esempio per il discorso del caffè adesso vogliamo partire con un grande progetto di raccogliere i fondi del caffè in un quartiere di termini che si chiama Città Ciancina raccogliere i fondi del caffè e farci delle biopastiche grazie di strumento secondo voi dove trovate tanti fondi di caffè un posto al bar e quindi bisogna coinvolgere il bar è importante che il rifiuto lo utilizzi chi lo conosce bene se noi vedete questo fuori o andiamo dal calzorare dimmi nel caffè c'è la caffeina ma nel rifiuto del caffè ormai ce n'è rimasta per poco la caffeina è stata sciolta nel caffè che ci siete venuti nel fondo ce n'è rimasta per poco è quasi poco lindoso poi lo fate asciugare e così via quindi anche perché anche perché chi utilizza il materiale conosce meglio il mio rifiuto il calzolaio i rifiuti di cuoio i colori che hanno come sono resistenti o meno e così via le forme li conosce meglio degli altri chi utilizza chi per esempio produce un cuoco che utilizza tante patate conosce molto bene le cuoce di patate quindi è chiaro che non è che i rifiuti li dovete portare a mille chilometri di distanza per utilizzarli la cosa interessante delle più classiche è che chi produce il rifiuto può cercare di farci qualcosa magari qualcosa che gli serve direttamente per esempio il discorso del cuoio è interessante perché ci abbiamo fatto i bottoni ci abbiamo fatto la custodia degli occhiani che sono tutti oggetti che sono nell'ambito dello stesso degli accessori quindi è vicino all'ambito del cuoio diciamo nel senso che è facile avere anche addirittura avere delle scarpe con il bottone comunque accessori e anche la custodia per gli occhiani in effetti è un oggetto che era fatto di pelle quindi non ci allontaniamo troppo avete visto che si cerca sempre di non allontanarsi troppo dall'utilizzo iniziale buccia di carota in acqua quando ho fatto un'acqua buccia di carota in acqua ha fatto un'acqua di carota in realtà l'acqua di carota all'inizio era fredda poi dopo l'ha scaldata adesso non mi ricordo la temperatura esatta che ha utilizzato non mi l'aveva mai assoluta ma penso che sia l'aveva già dato i 60-70 cari normalmente ogni bioplastica ha le sue caratteristiche di temperatura e di tempo praticamente questo serve anche a imparare una cosa che a scuola sicuramente imparate che si chiama che è quello per cui è famoso Galileo Galileo ha inventato ha inventato meglio ha perfezionato una cosa che si chiama il metodo sperimentale nel senso che il metodo sperimentale cosa significa che io tento di fare qualcosa è un po' come la ricetta del padre è un esempio di metodo sperimentale io tento di fare qualcosa il risultato com'è? troppo dolce troppo duro eccetera cosa ho sbagliato? ne faccio un secondo e vediamo modifico qualcosa cambio un po' la ricetta e questo è il metodo in parole molto semplici e il metodo sperimentale piano piano anche il guardo sul dato che è buono per quello che voglio fare è chiaro che se volete fare un pan prepado non utilizzate la ricetta delle masagne però l'obiettivo finale deve essere chiaro che cosa voglio fare alla fine qui volevo fare una lampada e effettivamente il materiale andava bene utilizzato in questo modo per farciare la custodia degli occhiali altre caratteristiche quindi dovete avere in mente che cosa volete farci e piano piano arrivare la ricetta continuare sì ma cosa è fatto questo pezzettino di legno? ecco c'è scritto questa è la bioplastica poi ci sono scarti di legno questi pezzetti sono scarti di legno sono scarti di legno che lei l'ha incollato con una colla sono dei pezzettini di legno che l'ha incollato con una colla naturale perché la colla ve la potete fare la colla la cosa importante che esce fuori da discorso delle bioplastiche noi la colla ce la possiamo con noi come la coccolina che è stata un'invenzione di un farmacista della Lombardia di Bocchiera e negli anni identi la colla ce la possiamo fare a Natale una delle commedie che proiettano sempre a Natale è Natale in casa in casa in casa di Bocchiera c'era questo la colla che faceva il presente e non è che la colla andava a comprare l'Atac al supermercato la colla se la faceva lui diceva faccio io andava a scaldare la colla faceva una colla di farina una colla di pesce e effettivamente se la scaldava e ci incollava le cose quindi anche la colla la plastica ce la possiamo produrre noi ci sono difficoltà però è anche molto divertente è anche molto divertente vi confrontate con una serie di problemi per esempio quella della muffa per esempio quello del fatto che tutto si secca bisogna rendere un po' meno l'unico eccetera però è anche molto divertente e imparate ma come se cuoce qualcosa non è che fa il grande infilamento cosa importante cerchi di mantenere la temperatura più bassa possibile non è che fai con la temperatura altissima la temperatura deve essere in quei tempi in quei 10 secoli va bene ma come di caldo? caldo in caldo sì ma veramente praticamente questa ragazza ha fatto passare delle luci dentro questa lampada dei led e siccome è un pochino trasmucente si riesce a vedere attraverso e la caratteristica è chiaro che se lo faceva la buccia di carota funzionava l'acqua di carota funzionava bene per questo discorso se lo facevi con un altro tipo di scarto magari col cuoio funzionava quindi capite che ogni scarto ha la sua personalità e le sue caratteristiche col cuoio ci fai altri oggetti sì e la base che azione è che questo è quello è lì dove c'è la pila tra l'altro oggetto di legno col bottone sotto c'è una pila senza la pila non c'è tutto la pila ci vuole per alimentare una batteria però costa poco anzi assicuro che il vantaggio di queste primarie costano poco i ragazzi che hanno fatto l'orologio che sarà poco da qualche giorno hanno detto che tutto hanno speso 5 euro quindi quindi i costi sono molto bassi perché sono tutti scarti l'unica cosa che c'è da comprare è il liceolo però sono piccole le matite il liceolo può essere anche il liceo in una scaduta c'è anche un discorso da sviluppare per esempio quello dei farmaci scaduti i farmaci scaduti magari possono essere più utilizzati per questo tipo di oggetti non ve li potete più prendere però magari possono essere utilizzati sta bene? basta quindi penso grazie grazie Grazie.